... ...economica e numeri che ne andano nel valutare il periodo. Io ne voglio... ...nogliare il pubblico. Ad esempio, noi abbiamo nove paesi che noi tutti usiamo per dare le vane. Innanzitutto è interessante vedere che in tutti i 9 paesi il saldo netto è positivo e nel 2 anni su questi 9 paesi europei abbiamo benefici di cui ben 1,2 miliardi sono in Europa molto complesso sul quale ci siamo confrontati anche con alcune delle principali cose per capirci e non parliamo sempre di classica ma andiamo a focalizzarci solo sulla realtà italiana ma anche nel perimetro del consorso italiano che si occupa delle maggiori costi di raccolta i maggiori trasporti come è stato giustamente ricordato anche per i costi ambientali quindi l'esternalità. Semplificando al massimo tre sono le voci più importanti alle 5 non dovrò mandare lo smaltimento qualunque sia la sua cosa e la ridotta, diciamo, semilaborato ha un valore di mercato significativo ridotto generato da tutte queste attività che crea nuove imprese, crea valore aggiunto, crea nuove occupazioni grazie 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 grazie